E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial di programmazione SwiftUI con Supabase. Cosa affronteremo in questo nuovo tutorial? Allora, prima di vedere cosa affronteremo generalmente con questo nuovo tutorial, andiamo a vedere quello che abbiamo fatto in precedenza. Allora, quello che abbiamo fatto e visto in precedenza con l'ultimo tutorial di programmazione sulla playlist RealizeApp con Supabase, dove abbiamo visto come aggiungere dei dati al nostro database, ora dobbiamo vedere come aggiornare questi dati e come li aggiorniamo questi dati. Perfetto, per aggiornare questi dati dobbiamo implementare una logica. Allora, questo è quello che abbiamo fatto prima. Abbiamo un elemento tipo Coca-Cola, un recinto aggiunto e tutti gli eventuali altri elementi aggiunti in precedenza con la data e con il nome dell'elemento uguale anche come titolo qua, come l'Arch Title. Ora, quello che vogliamo fare è che quando entri in un elemento hai un pulsante Modifica qui in alto, che avremo anche un pulsante o un testo Modifica, tocchi quello e quello che ti mostra è questa stessa schermata ma con più comportamenti per riusare le cose, evitare ridondanza. E quindi qua vedrai Coca-Cola per dire, vedrai Panettone, Pandoro e poi lo mandrai ad aggiornare. Chiudo qui e via. Come facciamo? Bene. Quello che dobbiamo fare qui è andare nel nostro Supadu View Model. Ovviamente, se non l'hai già fatto, ricordati di aggiornare, seguendo questo tutorial, di aggiungere il Project URL e l'API Key nel file Secrets, che trovi qua, così da poter di conseguenza non avere problemi temporali quando esegui l'API. Ora andiamo a modificare la funzione Update e quindi cosa facciamo? Bene, quello che facciamo in questo caso per aggiornare il nostro elemento è semplice e per farciò quello che dobbiamo fare è prima di tutto dobbiamo creare un'istanza, una copia di quell'altro valore come semplicemente facendo var itemToUpdate che è uguale a shopping, che è il modello. Così possiamo operare e di conseguenza essendo una costante da questo parametro qua. e dopodiché facciamo che che cosa vogliamo aggiornare? Il nome e l'isComplete. Quindi cosa faccio? itemToUpdate.name prende il nome da qua e poi cmd-D isComplete con isComplete Così io quello che voglio dire è che i dati presi da questo shopping nome devono prendere il nome passato dal parametro ok cioè questo nome qua quando andremo ad aggiornare qui lui prenderà questo nome qua itemName cioè quello che ci sarà Coca-Cola aggiornato quindi tu vorrai modificare qualcos'altro aggiorna e that's it ok è uguale a placeComplete attualmente non è stato impostato un comportamento per il check ma verrà successivamente fatto in qualche tutorial più avanti quindi ora devo gestire gli errori cioè devo usare il DoTryCatch il DoCatch per la error handling come si chiama e la gestione degli errori o anche delle eccezioni da altri linguaggi di programmazione stessa cosa solo che diciamo gestita con nome così e cosa dobbiamo fare? Allora qui nel catch io vado a fare un print e ci vado a stampare l'errore perché in caso non vada a buon fine mi dà un errore error due punti e lo localizzo cioè error.localizeDescription così mi dà un errore dettagliato di quello che è successo poi qui devo gestire le operazioni e quello che devo fare è cioè provo mentre attendo cioè await a operare con Superbase Superbase punto allora ci serve il database punto e da quale tabella? bene dalla nostra table.shopping in questo modo come anche già detto in precedenza con questa enum noi possiamo evitare di arcolare questa cosa direttamente là così eventuali altre tabelle le possiamo operare direttamente da qui aggiungere qui e evitare inutile hardcoding e così via e dopo di che faccio che cosa dobbiamo aggiornare? quindi values e li passo l'elemento questo qua item to update di item to update ed infine dobbiamo eseguire questa operazione boom e fin qua ok però come hai visto in precedenza questo dobbiamo vai qui fai modifica e tu vai in questo controller ma per evitare di farne un altro lo riusiamo e inoltre evitiamo sia di creare un ulteriore add quindi edit che si può anche fare ma è un'inutile ridondanza ma riusiamo questo qua e per far ciò lo chiamiamo in realtà possiamo chiamarlo le operazioni e lo chiamo operation operation view che ci può anche stare rispetto item view operation view quindi questo qui lo vado a nominare qua e di conseguenza qua uso una funzione utile molto comoda refactor di rename e quindi qua boom command v e me lo rinomina in tutte le parti dove deve essere rinominato ovviamente facciamo command v per accertarci che sia tutto ok sembra tutto ok e allora adesso è ora di operare con l'aggiorna l'elemento quindi per far ciò dobbiamo metterci in gioco allora l'operation view che adesso deve gestire quello noi nell'operation view dobbiamo aggiungere un'ulteriore variabile una costante che si chiama shopping item di tipo shopping optional che è il modello perché in questo caso optional ci permette di capire se siamo in modifica o in aggiunta cioè se stiamo andando a modificare un elemento quindi non è nil allora c'è esiste quindi lo stiamo andando a modificare altrimenti lo andiamo a lo andiamo semplicemente ad aggiungere però per far ciò dobbiamo gestire tutto quindi fuori dalla toolbar qui all'altezza del form qui quindi fuori dalla toolbar dobbiamo aggiungere un on appear perché così noi possiamo vedere se stiamo aggiungendo o modificando un elemento e per far ciò facciamo if let shopping item e quindi siamo in edit to do item altrimenti add new to do item quindi se andiamo a modificare questo elemento quindi let shopping item qua giusto ovviamente anche qua si lamenta quindi per far ciò qui lo faccio un edit in questo caso a livello di preview ma qui cosa faccio allora quello che vado a fare qui adesso è leggere quel valore cioè andando a sovrascrivere in realtà il campo qua e cioè questa name qua ora diventa quello che prende da lì là e come faccio semplice faccio che il name preso da fuori dell'elemento prende il shopping item punto name è uguale per questo per l'iscomplete che in questo caso non c'è ma dobbiamo comunque prendere allo stato attuale e iscomplete e qua è una cosa ma per rendere anche tutto più dinamico bisogna anche cambiare i testi qua cioè così qua è il aggiorna update o normale add item e così via altrimenti se add fa quello che deve fare però questo testo qua ovviamente è qua però adesso ci limitiamo principalmente alla logica che è la cosa più interessante questo poi lo vediamo dopo ma il cambiare questi titoli qua è semplice e principalmente la logica starà mutualmente esclusiva qui tra non appear e comunque in questi controlli qua quindi ora è così e quindi quello che devo fare qua è che se sto andando a modificare un to do item fai che questi qua prendano questi nuovi elementi qua e poi gestisci tutto quello che deve fare però devi gestire anche il save item qua perché anche lui giustamente deve gestire questa condizione qua questo specifico controllo qua ma come facciamo per gestire questa cosa qui bene per fare questa cosa qui quello che devo fare è che questo save item ora diventa lo faccio refactor cioè seleziono il nome del metodo anche esso refactor rename e lo chiamo operation operation item così è generico però per gestire quella cosa lì dobbiamo fare come abbiamo fatto qua quindi questo qui che posso gestirlo non so fammi pensare potrei anche farlo direttamente tutto nell'iflet cioè il task e qui dentro perché alla fine sono tutte le operazioni che devono essere gestite da lì e quindi cosa faccio qua posso fare così allora questo faccio due items allora faccio così cosa faccio allora faccio che if let shopping item e quindi sono in edit edit to do item comunque qua lo vedi anche edit to do item e quindi ok altrimenti sono in aggiunta e quindi questo qua semplicemente qua e quindi qua 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 però noi dobbiamo modificare questo elemento in questo caso e quindi cosa facciamo dentro il qui dentro il leaflet shopping item dentro il primo blocco di codice quello che vado a fare è fare allora il task che non mi serve perché già lo gestisco qua e giustamente posso evitare richiamarlo moltiplici volte ma qui dentro faccio un await il nostro view model che in questo caso è su padu view model e quindi cosa faccio await su padu view model punto la funzione update update di shopping il nostro shopping item ok con i dati ovviamente anche quelli presi da noi name e is complete quindi name e is complete e facciamo di conseguenza anche questa chiamata di questa funzione perché così possiamo dirgli di aggiornare questa cosa qui cioè di aggiornare elementi nella fast to do items ora faccio command b come vedi ci sono degli eroi ma questo è normale perché questo elemento viene modificato da qui ma se voglio modificarlo qui faccio operation view di super duvio model super duvio model e shopping questo perché vengo nella home e nella home posso farla assente però nella detail view devo implementare la logica per mostrare quello lì perché adesso c'è nel super view model c'è l'algoritmo cioè c'è l'operazione del database che abbiamo fatto per testarla e quindi vado nella detail view e qua quello che devo fare è principalmente aggiungere una funzione di stato add state private var edit item to do anzi edit can edit shopping anzi edit shopping item che di default è forse come valore iniziale edit shopping item e di conseguenza fuori dalla lista qui faccio un punto aperto dire anche un toolbar perché giustamente dobbiamo aggiungere un elemento che è un pulsante qualcosa per quello io cosa faccio semplice vado su sf symbol e da qui vado a cercare come vediamo questo copy name ora questo probabilmente devo aggiungerla qua ma vado nella home view dove c'è il pulsante più ovviamente così come tale quindi lo vado a copiare vedete sono pigro si ma faccio un po' più veloce ma questo è edit shopping item 2 top trailing quindi tutto a destra come nella home view c'è il pulsante aggiungi qui ci mettono i mai sistemi ma invece tutto due la fare un po' più piccola anzi dovrei fare su tutte però la faccio così per tenerla uguale nel dis presente faccio questo edit shopping item e ci vado a mettere questo qui ovviamente video passate due item e qui che ci sta la logica che ti fa mostrare quel nome di la ma facciamo così operation view questo faccio punto in it vuoto e questo to do item e se qua è tutto ok ovviamente voglio vedere cosa mi fa vedere qua e quello che mi fa vedere adesso lato canva lato tela ed un bel pulsante ok vedi ecco già vedete già lo vedi qua cake te l'ha preso vabbè che ho preso cake perché sono qui con un dato d'esempio ma questo pulsante non mi piace quindi lo modifico prendiamo la semplice penna e pace questa che è un po' più carina quindi cosa faccio copy tac tasto destro o due dita sul trackpad ctrl più click copy name e la metto qui vediamo se è tutto ok allora intanto facciamo un run nel progetto sul dispositivo vero e pop cioè sull'iphone 15 e poi sul simulatore quindi quello che vedo vediamo se è tutto ok beh era tutto ok ok voglio aggiungere un elemento per esempio ad item e aggiungo per esempio pasta anzi facciamo pasti ok ho fatto un typo salva ok vedo pasti oh ho sbagliato vado su pasti vado su modifica e da pasti vedi ha preso pasti e faccio pasta boom salva che in realtà questo sarà aggiorna torno indietro dobbiamo fare una modifica allora prima quello che ho fatto è aggiungere principalmente questo controllo perché questo controllo principalmente ci accetta che l'id dell'elemento sia ok altrimenti non posso aggiungere l'elemento con l'id specifica e se non passa ovviamente lo rimane dentro questo blocco di codice del guard in caso ok l'id c'è allora passa oltre quindi solito controllo questo qua poi item to update prende shopping da qui dove item to update che è un'istanza alla fine di shopping della structure punto name punto is complete prende il name qua ed is complete qua e qui ovviamente gli aggiungo la funzione eq la funzione qui ci permette di controllare la colonna id con i valori id della shopping item e poi è tutto solito dopodiché per far sì che si aggiorni in tempo reale devo fare dei controlli in delle parti specifiche solo per far sì che si aggiorni in real time e per far ciò perché io adesso eseguo qua e come vedi qua c'ho acqua e pane io sono aggiungo un altro aggiungo pandora oh ho fatto un typo boom ok solo che se modifico pandora qui io voglio che si aggiorni sia qui che ovviamente di là e se adesso faccio pandora ok qui non me lo aggiorno e quindi anche e l'unico modo per aggiornarsi è chiudere l'app e rientrare ma non è il modo giusto e come faccio per far ciò devo chiamare questa fetch to do items questa funzione faccio in questo modo qua cioè nella vista di dettaglio che quando si dismissa mi mostra quello ovviamente qua è super dubbio model e la vado a mettere qua quindi questo super dubbio model qui sotto diventa questa roba qui così quando la vista si dismissa e torna in questa seconda vista te lo aggiorna quindi ti fetch to do items e di conseguenza anche nella home devo applicare anche questo aggiornamento qua così cioè punto on appear eseguo il tutto con il task per eseguire il lavoro in modalità asincona e dentro come fatto qui faccio try await fetch to do items così faccio command b e faccio command r cioè eseguo l'app ok ora voglio cambiare pandora in pandoro e quindi pandoro ora faccio save e qui dovrebbe aggiornarmelo ok comunque me lo aggiorno quando torna qui per questo fatto qui che non te lo aggiorno quando ti smessi questo in realtà lo si può far scattare anche da qui quindi invece fa così tra uo ok posso no nella home view va bene il problema ovviamente nella detail view cioè dove vado a mostrare questa schermata quindi invece di farlo qui perché qui lo sto facendo all'altezza di qui al vedi qua quando edit quando fai salva però ecco quando faccio salva io già lo sto facendo no operation view vedi qua da questo qua ok anche quello bisogna capire bene perché vedi vado qui sopato più model aggiungo un altro elemento per esempio test salva qui me lo mostro vado su test modifico testo salva e vedi che è test testo però lì me lo fa subito e qui si può fare anche in modo diverso comunque questo è tutto abbiamo visto come aggiornare il testo e come aggiornare tutti i vari elementi della todo ora carico il progetto poi sistemato con le migliori anche riguardanti questo aggiornamento in questa vista e nel prossimo tutorial andiamo ad affrontare quello che riguarda la rimozione di un elemento con lo swipe da qui quindi that's it e ci vediamo alla prossima ciao ciao